A nome dell'Agenzia Spaziale Italiana e mio personale desidero inviare un saluto cordiale a tutte le istituzioni che celebrano la giornata nazionale dello spazio, anche all'estero. Agli ospiti che partecipano alle iniziative organizzate dalla nostra rete diplomatica e consolare e ai visitatori che avranno modo di conoscere e apprezzare la mostra fotografica Looking Beyond. Essere presenti con le nostre competenze scientifiche e tecnologiche in ambito spaziale in tanti paesi al di fuori dell'Italia non è solamente motivo di orgoglio, è un modo per raccontare nel mondo le grandi capacità e i brillanti risultati della ricerca dell'industria italiana in un settore, quello dello spazio, che sempre di più esprime ricadute importanti e talvolta poco note nella vita di tutti. Il nostro paese può vantare una filiera completa di attività spaziali e per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana contribuisce a sviluppare progetti e missioni sempre più sfidanti, enfatizzando la cooperazione internazionale tra governi e tra agenzie. Celebriamo quindi lo spazio, quale ambito di innovazione, crescita e futuro, a vantaggio del pianeta e delle persone.